Io penso che il manager Silveri, che mi sembra sia stato nominato non per titoli in campo dell'organizzazione sanitaria, ma per legami politici fiduciari con il PDL, sia dimostrando da tempo una serie di scelte dissennate e di negligenze nei confronti dei temi della salute mentale. L'ultimo episodio gravissimo è questo del centro di urno, dell'intervento della Commissione parlamentare che torna all'Aquila e trova la situazione precedente, cioè probabilmente l'ASL non ha fatto nulla, adesso per mettere una pezza a colori si pensa di delocalizzare, mentre il centro di urno deve stare nel cuore della vita aquilana, perché è una struttura semiresidenziale a cui le persone che soffrono di queste patologie si devono, in cui si devono recare quotidianamente al mattino per riandarsene col mezzo pubblico alla sera, cioè è davvero folle quello che sta accadendo, ma per me è assolutamente folle che nonostante ci sia stata la disponibilità del Comune, la Regione, la Giunta regionale, il Presidente Chiodi faccia finta, ignori la situazione, non so se ne sono anche a conoscenza o se ne fregano, io penso che in qualsiasi posto civile della nostra penisola o dell'Europa il Presidente della Regione chiamerebbe il Sindaco, il Presidente della provincia, il manager dell'ASL per trovare una soluzione, anche perché su questo tra l'altro il Comune ha scritto l'ASL da mesi, quindi non si capisce perché ci sia questo atteggiamento di negligenza, tra l'altro in una città in cui a causa dei traumi del terremoto, tutto ciò che è accaduto sconvolgendo la vita quotidiana di decine di migliaia di persone, questo tipo di patologie tra l'altro sta aumentando, come ha denunciato lo stesso Sindaco, quindi ci si aspetterebbe sensibilità, concretezza e invece c'è un atteggiamento di assoluto disattenzione nei confronti di questa tematica. Poi c'è aperta la questione degli immobili, degli affitti, di come si spendono bene i soldi pubblici per garantire i servizi sanitari ai cittadini, ma su questo torneremo. Adesso il nostro appello è a Chiodi ad intervenire ascoltando la voce dei familiari, ascoltando la voce degli operatori e delle associazioni.